perché se no non ce la faccio grazie, con l'alba allora, come funziona la zeolite? ripetiamo queste bellissime palline si versa piano 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 piano, vai ancora, ancora questi sono un po' più grandi ecco, basta basta, si fa già scannare vedete? eh sta bollendo ma lei sta assorbendo l'acqua io comincio a funzionare e questo calore questo calore per noi già era cottura cioè io già adesso posso fare colazione franzo, cena caldi senza corrente elettrica e senza gas e è una cosa strabiliante perché posso cucinare ovunque il Leny cosa dice? non è d'accordo il Leny ovviamente no il Leny il Leny non è d'accordo ecco qua sta cucinando stanno cucinando chiudo perché se no sente ovviamente calore stanno cucinando ma se volete sentire il calore questo è il calore che genera ci sono vari sistemi anche l'energia solare bisogna eliminare l'acqua che c'è dentro bisogna asciugare bisogna portare fuori l'acqua paradossalmente noi non abbiamo più bisogno di gas e di energia però bisogna che qualcuno ci dia una mano per farla conoscere questa cosa perché se no cosa succederà? che ci metteranno tutti i bastoni che noi chiediamo ricerca e loro ci metteranno i freni mentre proprio facendo vedere come riusciamo a utilizzarla nella maniera più semplice più umana più familiare che c'è che è quella di creare delle cotture che riusciremo a portare un paradigma di solito quella è la nostra finalità e anche gli chef italiani